Sì, ora mi sono dedicata diciamo la pista di corruzione del mezzo di un'unica, 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 un'unica e un'unica e un'unica. Sono stati tutti i giorni, il mio amici e padre è una artista che è una ballorina e adesso mi piaceva fare un'attrice in tutto il mondo. Ho andato io a Colombia, in mezzo a me, 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 a me e a me. E a febbraio invece ce l'ho un film a me, 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 a me. Quindi sono tantissimo giusto dall'alizzo di话 e di cosa mi piace di trovare. Questo è un band, lo andando ad Oster, cani, giochiamo ai figli, che si è un po' un piaceri, stare a mezzo di amici, Maurizio, Manuela e qualche persona che stanno nel porto. E per questa volta siete nascolta, nelle ostri un'unica prossimo, del 4 gennaio numero 179. Pocca tempo. Come tu scuola stai, lo scuola, sopra un louco e piccina. Ah, vabbè! Se l'hai capata! Guarda, se l'hai capata, io mando a scuola sulla direte di nuovo YouTube. Penso che posso fare tutte le stesse cose che non mi fanno per te. Però, vabbè, adesso cambiamo scuola. Francesco Stella, andò quando il cantone, per essere un uomo di video, perché questa non è la mia famiglia, però... Però lui, vabbè, ha iniziato a... In questo video, ci siamo venuti, e ci siamo conosciuti, tanti anni fa, che mi ripetava il personaggio per dieci anni fa. Quattro anni fa? Quattro anni fa, mi rappresenta, Samuele, e sta qui qua, a Scalberg, e poi, diventava un vizio di pure Cattino, e poi, quando ti mando a parlare, ma che tu hai una scelta numerica? Sì, esatto. Intanto, intanto, voglio dirvi, grazie, perché oggi sono veramente un progetto per essere vivi, un progetto, e un vostro progetto, che conosco completamente, ma non sono i sacrifici del vostro lavoro, grazie, grazie, ma anche di cose funzionali, invece, proprio dove sarò lì, un vostro progetto per grazie, sarò, ma loro, quando siamo, gli stessi, non ve ne vogliate, non fate neanche in finale, mi chiedevano, i miei fratelli, perché, non si fa essere uno, quindi, non so, non so, non so, quindi, la loro sera, invece, non so, però, non so, 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 che, io non so, non so, non so, e questo è il nostro corso del gruppo. Quindi ti pensi, e spero abbastanza in un'usul, in un'usul di mistero di un'usul, e soprattutto per il gruppo di persone che non hanno mai avuto il gruppo e che non hanno mai avuto il gruppo. Grazie, ma ci sono i due, non ci sono i due, non ci sono i due. Non ci sono i due, non ci sono i due. Non ci sono i due. Non ci sono i due, non ci sono i due. Non ci sono i due. Che è anche un po' di un'usul, non ci sono i due. Non ci sono i due. E questo è un'usul di te, che è il mio segretario, che è il mio segretario. Ci sarà il mio presentatore, ci sarà il mio presentatore, e il mio amico caldo, e il mio amico, e questo è la nostra carriera. Di qualunque? Noi, non ci sono i due. in questo caso è il mio segretario. Ah 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 ah. Dici, la piazza del Giacomo, ci viene nella lada. Si chiama il ristorante è il tuo? Calvo. Calvo? Quale è il tuo? E' il mio segretario. Calvo. 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 Grazie